La Befana Un tempo la Befana veniva col vento di tramontana su una scopa e col saccone mezzo pieno di carbone e lasciava tanti doni solamente ai bimbi buoni. Ma poi lei è andata a scuola e ha imparato una cosa sola, bimbi cattivi non ci sono per niente, non serve il carbone, assolutamente. Non serve la scopa per portare il saccone, si viaggia con raggio a propulsione, ci sono doni per tutti i bambini anche se non esistono più i camini. Se il mondo è cambiato o non fa niente, la buona Befana verrà certamente.